Festa di San Giuseppe a Salemi Riti secolari, antiche tradizioni, degustazioni, ma anche mostre, musica e laboratori Torna a Salemi dal 15 al 25 marzo La tradizionale festa di San Giuseppe Con un programma pieno di iniziative Gli antichi sapori del pane e le vecchie tradizioni degli altari rivivono a Salemi Festa di San Giuseppe dal 15 al 25 marzo Per tutte le info, sito ufficiale del Comune e nostra pagina Facebook Con il patrocinio della Regione Sicilia, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo E dell'Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana